Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, è già finita l'avventura in bianco-nero di Federico Bernardeschi. L'ex Viola è dato per partente in direzione Roma e potrebbe rientrare in un possibile scambio con Niccolò Zagnolo. Tanta sfortuna per la Fiorentina, uno dei suoi obiettivi di mercato per il centrocampo, Daniele Baselli, del Torino, verrà operato l'8 giugno prossimo dopo il brutto infortunio al ginocchio, stagione finita per lui. L'Atalanta si inserisce nella trattativa per Miranciuk, attenzione anche alla clausola rescissoria inferiore ai 10 milioni. Per Fiorentina1.com, Lorenzo Sommigli. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso Viola.